Il segretario regionale del PD rompe il silenzio dopo la sconfitta alle primarie. In Molise, per Danilo Leva, esito del voto condizionato da una cozzaglia di persone che mirano al potere. L'Aggiunta regionale ha approvato la proposta di legge che prevede la riforma dell'Arsiam, sulle cui ceneri nascerà l'Arsarp, l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca, organizzata in quattro dipartimenti. Scossone al comune di Campobasso, dove il presidente della Commissione Cultura, Stefano Ramundo, lascia l'incarico e dove i nuovi scenari politici, in vista del voto di maggio, animano le polemiche e le provocazioni. Presentato a Isernia il volume in cui il procuratore Albano ripercorre la caccia ai criminali nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Nell'88 fu lo stesso magistrato a far condannare i responsabili dell'ecidio di 22 innocenti. I giallorossi vincono il recupero, prendono i tre punti ma rigettano nella crisi Granata. Urbano chiede rinforzi e spera nella salvezza. In eccellenza anticipi per le inseguitrici del Campobasso, in promozione occhi puntati sulla capolista Treppini Sporting Matese. Ben trovati con l'informazione di Molise TV, apriamo con la politica. Il segretario regionale del Partito Democratico Danilo Leva, dopo le primarie che hanno premiato Matteo Renzi, ha rotto il silenzio e commentato duramente l'esito del voto in Molise. A commentare l'attuale rottura del centro-sinistra molisano, anche il candidato governatore alle scorse regionali, Massimo Romano. Sentiamo cosa è accaduto. Nella politica locale continuano a tenere banco e ad accendere le polemiche i risultati delle primarie del Partito Democratico. Dopo l'affondo prima del voto da parte del parlamentare Danilo Leva, è arrivato anche il duro commento sui risultati che questa volta l'ormai ex responsabile nazionale per la giustizia del PD ha affidato al famoso social network Facebook. Il sostenitore di Gianni Cuperlo ha infatti attaccato duramente i rottamatori molisani che hanno sostenuto il nuovo segretario nazionale, giovane sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Secondo Leva, in Molise sarebbero stati l'Italia dei Valori, Patriciello e comunisti italiani a condizionare l'esito delle primarie. Un modello questo fortemente diseducativo perché non rappresenterebbe per Leva un partito aperto ma solo una cozzaglia di persone legate da banali ambizioni di potere. Non sono un conservatore ma semplicemente una persona seria, ha concluso il segretario regionale del PD. Insomma, dichiarazioni queste che acquiscono ancora di più quella rottura nel centro-sinistra molisano prevedibile già dalla scelta compiuta dal governatore Frattura di scendere in campo al fianco della Renziana Fanelli e di correre per l'Assemblea Nazionale per la mozione di Renzi. A fare da sfondo a questa scissione interna ovviamente la composizione dell'esecutivo di Palazzo Moffa ma soprattutto il congresso regionale del PD. In corsa per il ruolo attualmente ricoperto da Leva, già il sindaco di Riccia e Renziana Doc, Micaela Fanelli. Sarà proprio in quell'occasione infatti che conservatori o moderati dovranno affrontare chi dà il voto delle primarie né uscito rafforzato. Una stoccata a Leva non ha mancato inoltre di darla proprio a questi ultimi quando sempre su Facebook si è soffermato a commentare la sua mancata rielezione come responsabile nazionale per la giustizia. Non avrei mai accettato un incarico in segreteria senza una scelta dell'intera mozione Cuperlo. Io, continuo a muso duro Danilo Leva, faccio politiche e a differenza di tanti altri in Molise non vendono uccioline. Intanto, mentre solo qualche giorno fa è stato proprio il segretario nazionale IDV Ignazio Messina a ribadire il sostegno del partito a Matteo Renzi, da Boiano a rispondere alle dichiarazioni di Leva ci è immediatamente pensato l'ex consigliere regionale e candidato governatore di Costruire Democrazia Massimo Romano. Il gruppo che oggi Leva definisce accozzaglia di persone ha commentato il giovane avvocato e quello che alle scorse regionale ha vinto proprio con il sostegno di Leva. L'esponente del PD non ritiene, ha poi concluso Romano di trarne, le dovute conseguenze perché in alternativa può comunque sputarsi in faccia. Insomma, la spaccatura all'interno del centro-sinistra molisano sembra essere destinata a proseguire in vista dell'importante appuntamento della prossima primavera tra gli affondi esterni di chi non perde poi occasione per ribadire come le profezie funeste si siano ora avverate. Ci occupiamo ora di università. Il senatore Ruta si è dichiarato parzialmente soddisfatto per l'apertura dichiarata per il 2014 ma insoddisfatto per la denunciata situazione di disparità tra gli Atenei del centro-nord e quelli del Mezzogiorno. Pertanto ha chiesto al Governo di intervenire altrimenti la battaglia continuerà con la presentazione di emendamenti volti a garantire pari opportunità di crescita il servizio. Dopo l'incontro tra il Ministro Maria Chiara Carrozza e i Rettori degli Atenei del Mezzogiorno è arrivata ieri pomeriggio la risposta del Governo all'interrogazione del senatore Roberto Ruta. Il senatore molisano aveva chiesto chiarimenti sulla scelta dei nuovi criteri contenuti nel decreto ministeriale numero 713 del 2013 con cui sarà assunto un nuovo personale all'interno degli Atenei. Un documento che creerebbe forti penalizzazioni tra nord e sud secondo quanto denunciato dallo stesso Rettore dell'Università degli Studi del Molise Gian Maria Palmieri. Anche per il senatore Ruta tali norme impedirebbero nuove assunzioni di docenti penalizzando le aspettative di ricercatori ed assistenti universitari a vantaggio degli Atenei del centro nord senza tener conto delle diverse realtà territoriali in cui le università si trovano ad operare. A molti Atenei tra cui quello molisano infatti non sarebbe consentito come ha spiegato Ruta di reperire adeguate risorse da fonti esterne né di aumentare il livello di tassazione a carico degli studenti. Il governo si è detto pronto ad intervenire ma non prima del 2014 soddisfacendo così solo in parte le richieste del senatore Ruta che ha chiesto al governo di intervenire attivando la clausola di salvaguardia nella legge di stabilità all'esame della Camera dei Deputati. Altrimenti, ha promesso Ruta, la battaglia continuerà con la presentazione di emendamenti volti a modificare i criteri adottati affinché nel 2014 anche gli associati e ricercatori dell'Ateneo molisano e degli Atenei del centro sud possano trovare opportunità di lavoro e riconoscimento al percorso di ricerca svolto senza sentirsi di serie B rispetto ai colleghi di altri Atenei più fortunati. I tagli ai costi della politica prodano in Consiglio regionale martedì 17 novembre infatti il nuovo disegno di legge Niro Frattura sarà discusso e messo ai voti dall'Aula di Palazzo Moffa non prima di un passaggio in prima commissione dove nello stesso giorno, prima dell'inizio della seduta i consiglieri Francesco Totaro, Cristiano Di Pietro, Nunzia Lattanzio, Salvatore Micone e Nicola Cavaliere dovranno dare un parere alla proposta di legge che mira a cancellare il famigerato articolo 7 ridurre i vitalizi agli ex consiglieri le indennità agli attuali e ridimensionare i fondi per il gruppo misto dopo la seduta del 17 prima delle festività natalizie l'Assemblea si riunirà anche lunedì 23 dicembre e venerdì 27 quando sarà celebrato il 50esimo anniversario dell'istituzione della Regione Molise l'Aggiunta regionale ha approvato la proposta di legge che prevede la riforma dell'Arsiam sulle cui ceneri nascerà l'Arsarp l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo rurale e della pesca organizzata in quattro dipartimenti un braccio operativo dell'assessorato all'agricoltura a sostegno degli imprenditori agricoli vediamo Nell'ottica di taglia e la spesa della pubblica amministrazione l'Aggiunta regionale ha approvato la proposta di legge che prevede la riforma dell'Arsiam l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Molise rispondendo così ad una necessità di rinnovamento della stessa struttura sulle ceneri dell'Arsiam se la proposta di legge sarà approvata dal Consiglio regionale nascerà l'Arsarp l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo rurale e della pesca organizzato in quattro dipartimenti Dipartimento di Innovazione e Ricerca Dipartimento di Monitoraggio delle Misure Dipartimento di Assistenza Tecnica e l'ultimo di Marketing e Certificazioni di Qualità è chiaro che andiamo in direzione alla innovazione della macchina amministrativa della pubblica amministrazione era ciò che c'eravamo prefissi di fare l'abbiamo fatto con tempi davvero celeri perché siamo a nove mesi dal nostro insediamento quindi ragionando anche su ciò che volevamo e cercando di far tornare ad essere davvero ente non strumentale in senso tecnico ma a tecnico ovvero interfaccia propositiva dell'assessorato all'agricoltura ci sarà una cabina di regia nella quale sarà presente l'assessore all'agricoltura il direttore d'area ma anche il direttore dell'Arsarp e i vari responsabili dei dipartimenti ci sarà una grande capacità di poter colloquiare tra di noi nel cercare di mettere in campo un'azione che possa essere davvero utile per chi fa agricoltura in questo territorio uno strumento che secondo il governatore Frattura agevolerà in primis l'utente da sottolineare il prezioso ruolo del dipartimento di assistenza tecnica che si porrà come interfaccia propositiva per gli imprenditori agricoli ad ognuno di loro sarà assegnato infatti un tecnico agronomo che potrà indirizzarli e guidarli nella risoluzione di problematiche di vario genere il presidente Frattura ha inoltre ribadito il ruolo di raccordo che l'Arsarp avrà con le altre strutture regionali nell'ottica di favorire una notevole sforbiciata ai costi della politica in quanto la nuova agenzia non avrà alcuna governance un braccio operativo dell'assessorato all'agricoltura una struttura che con i suoi quattro dipartimenti diventa non solo elemento che garantisce l'operitività dell'assessorato all'agricoltura ma quanto elemento di raccordo con le altre strutture che in ambito regionale svolgono servizi analoghi parlo per dire di un raccordo con il Dipartimento di Innovazione e Ricerca con l'Università del Molise in particolar modo chiaramente con la Facoltà di Agraria parlo di un raccordo con i laboratori quindi il sistema camerale i consorzi di difesa i consorzi di bonifica e il consorzio di difesa un elemento di raccordo nella galassia regionale un'agenzia senza governance non è previsto alcun consiglio di amministrazione né amministratore unico ma un direttore generale che eseguirà gli indirizzi che riceverà dall'assessorato all'agricoltura con una struttura a servizio dell'utente imprenditore e cittadino Il Comitato Provinciale dell'Inps ha approvato la richiesta di nuova cassa integrazione ordinaria presentata dall'ITR a essere interessati dal provvedimento quasi tutti i dipendenti dell'azienda Tessile intanto da Pettoranello si lavora al piano industriale per il rilancio dell'azienda mentre l'amministratore delegato Giovanni Petrollini ha fatto sapere come la trattativa con il Colosso Indiano sia tuttora in corso e come all'inizio della prossima settimana l'imprenditore potrebbe convocarlo insieme al patron Antonio Bianchi a Londra per sottoscrivere l'accordo Petrollini ha anche rassicurato sul futuro aziendale parlando di altri imprenditori interessati all'azienda Tessile Nuovo scossone al Comune di Campobasso dove il presidente della Commissione Cultura Stefano Ramundo ha lasciato l'incarico e dove nuovi scenari politici in vista del voto di maggio animano polemiche e provocazioni Sentiamo Ancora scossone al Comune di Campobasso dove non solo la maggioranza continua a perdere pezzi ma anche il fermento in vista delle amministrative di primavera sta provocando assetti alleanze quanto mai precarie A complicare il tutto ci si è messo poi anche il cartellone degli eventi natalizi per il quale sembrerebbe essere di pesa la decisione del giovane consigliere Stefano Ramundo di abbandonare la presidenza della Commissione Cultura Un gesto, quello di Ramundo, che qualcuno e non solo nemmeno tra le fila delle minoranze auspicava e voleva da tempo ma che era sempre stato rimandato dallo stesso da sempre fedelissimo del primo cittadino Secondo indiscrezione a far sbottare Ramundo sarebbe stata la confusione che a metà dicembre alleggiava ancora sul programma di eventi da promuovere per la città ma in attesa che le polemiche si stemperino e da Palazzo San Giorgio si possa continuare a lavorare per promuovere qualcosa nel Comune Capoluogo durante le feste natalizie a infiammare la polemica tra maggioranza e opposizione anche i nuovi assetti politici a livello nazionale Il centrodestra si ritrova infatti ora diviso tra il nuovo centrodestra di Alfano e la rifondata Forza Italia del Cavaliere ad avere aderito al primo già l'ex delfino del sindaco Salvatore Colagiovanni insieme al consigliere nonché assessore provinciale eletto nelle fila dell'Udeur Alberto Tramontano A continuare a sostenere il Cavaliere invece il consigliere Maurizio Tiberio uomo molto vicino a Michele Iorio che ha fatto sapere come non disdegnerebbe nemmeno le primarie in vista delle prossime amministrative a differenza della posizione assunta dall'attuale primo cittadino Ma intanto è stato proprio Maurizio Tiberio a far salire la temperatura tra le mura di Palazzo San Giorgio presentandosi alla conferenza stampa di ieri convocata dagli esponenti del Partito Democratico sulla questione del pagamento Isci sui terreni agricoli Occasione questa ghiotta per Tiberio che ha rimarcato la questione della legge 30 varata dal governo Iorio l'11 dicembre 2009 attualmente prorogata dal consiglio presieduto dal governatore Frattura Ma intanto Massa in un'accesa discussione pungolato proprio da Tiberio oltre a rimettere al bando la legge 30 da un accerto difeso a spada tratta l'attuale governatore e il suo esecutivo Insomma che l'esito delle primarie del PD si sia fatto sentire anche a Palazzo San Giorgio sembra ormai essere scontato Nel tardo pomeriggio di ieri una donna è scomparsa in via 24 maggio a Isernia dove era residente sembrerebbe che la sessantenne rimasta vedova dopo aver avuto un litigio con la figlia si sia allontanata da casa senza dare più notizie di sé Sul caso indagano ora le forze dell'ordine tra cui i vigili del fuoco del capoluogo Pentro Solo in tarda mattinata gli inquirenti hanno però fatto sapere che la donna al momento della scomparsa aveva con sé il cellulare telefono che tramite alcune celle è stato rintracciato in via Panzini La strage di Caiazzo 13 ottobre 1943 un volume che racconta la caccia ai criminali nazisti durante la seconda guerra mondiale redatto dal procuratore capo della Repubblica di Isernia Paolo Albano è stato presentato presso l'Aulamagna dell'ITIS a Isernia in collaborazione con la SIAP il sindacato italiano appartenenti polizia e dalla provincia di Isernia Vediamo Presso l'Aulamagna dell'Istituto Tecnico Industriale di Isernia è stato presentato il libro La strage di Caiazzo 13 ottobre 1943 realizzato dal procuratore capo della Repubblica di Isernia Paolo Albano in collaborazione con il SIAP sindacato italiano appartenenti polizia e la provincia di Isernia il procuratore Albano nel 1988 risalì a due responsabili i quali erano complici della strage di 22 persone e sei anni dopo vennero condannate all'ergastolo La sera del 13 ottobre 1943 sulle colline di Monte Carmignano presso Caiazzo in Campania alcuni soldati nazisti uccisero 22 civili italiani tra cui donne e bambini una tragica vicenda dimenticata per decenni dalla storia e dalla giustizia Sono stato pubblico ministero sia nella fase delle indagini paradivinari sia nel dibattimento davanti alla corte d'assise e come giustamente diceva lei queste stragi in particolare la strage di Caiazzo è stata dimenticata per quasi mezzo secolo è stata dimenticata dalla storia è stata dimenticata purtroppo dalla giustizia per tanto e tanto tempo e fa parte di quelle stragi dimenticate del sud d'Italia che per tanto tempo sono letteralmente scomparse dalla nostra storia dalla nostra storiografia Nel 1988 grazie a un cittadino italo-americano che fortuitamente rinvenne una documentazione utilissima per arrivare ai responsabili mi permise di riaprire l'indaggio e siamo riusciti quindi ad arrivare alla condanna all'ergastolo di due criminali nazisti perché è stata l'unica sentenza in Italia di condanna di criminali nazisti da parte di una corte d'assise quindi di un tribunale ordinario in nome del popolo italiano quindi non da parte di un tribunale militare quindi è una sentenza storica che ha restituito dignità alle vittime di Caiazzo non solo ma a tutte le vittime del sud d'Italia della furia nazista di quel periodo Si è svolto a Roma su iniziativa del Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando l'evento conclusivo di un articolato dibattito sulle potenzialità dell'economia verde per rilanciare il Paese a prendere parte all'evento anche il governatore Frattura nella veste di rappresentante della Conferenza delle Regioni che ha posto l'accento sulla necessità di una governance condivisa e partecipata Una nuova economia detto Frattura orientata alla tutela dell'ambiente rappresenta una delle vie principali per ragionare di sviluppo in questo rilevante il ruolo delle Regioni che dal 1991 al 2010 hanno istituito 134 parchi regionali 365 riserve naturali regionali 171 aree naturali protette per un totale di circa 1,6 milioni di ettari di terra Restiamo in tema Green Economy tra ambiente, sviluppo e innovazione il progetto presentato alla Camera di Commercio di Sernia volto a realizzare un marchio unico di sostenibilità ambientale per la filiera corta del settore lattiero caseario dell'Alto Molise Sentiamo Nel corso di una conferenza stampa presentata presso l'ente camerale di Sernia sono stati illustrati i risultati finora ottenuti nell'ambito del progetto Green Economy tra ambiente, sviluppo e innovazione L'obiettivo è stato quello di realizzare un marchio di sostenibilità ambientale per la filiera corta del settore lattiero caseario dell'Alto Molise unico per qualsiasi azienda che ne faccia richiesta volontaria la cui denominazione è i piaceri dell'Alto Molise Si è creato questo progetto per far sì che le aziende dell'Alto Molise potessero ottemperare ad un disciplinare ambientale per far sì che questo possa essere poi girato su un marchio che si chiamerà i piaceri dell'Alto Molise Questo perché? Perché si vuol far sì che i produttori di latte e i trasformatori del latte possano avere la filiera corta e quindi essere controllati dal punto di vista ambientale quindi il prodotto finale sarà sicuramente un prodotto più vendibile sul mercato nazionale ed internazionale Questo marchio per le aziende della provincia di Sernia rappresenta un valore aggiuntivo per le nostre aziende così il presidente provinciale da col diretti presente all'incontro Giovanni Monaco Fare un marchio del genere e seguire una filiera di questo latte sarebbe un'opportunità e un valore aggiunto in più per le nostre aziende e anche per i consumatori che acquistano un prodotto che è naturale un prodotto garantito da tutti quanti le persone che operano nel settore Ma prima bisogna partire dalla valorizzazione del territorio È chiaro che è un vantaggio legato al territorio cioè vogliamo valorizzare il territorio vogliamo partire dall'impresa agricola vogliamo mettere al centro della strategia economica di un'intera regione come il Molise ma come Coldiretti lo stiamo facendo pure in tutta Italia chiaramente al centro l'impresa e l'economia dell'impresa agricola Il crescendo interesse per la Green Economy ha portato vantaggi anche all'associazione regionale allevatori Le prospettive per gli allevatori è quello lì di riconfermare riconoscere il lavoro che quotidianamente loro fanno e che è riconosciuto dal marchio Italia Leva e sarà affiangato questo marchio da un marchio di sostenibilità ambientale che va a riconoscere permette di evidenziare il territorio in questo caso sono un territorio di 13 comuni della provincia di Sernia dove saranno messi in evidenza posti in evidenza le positività ambientali che vanno ad incidere sulla solubilità degli alimenti Riapriamo la pagina sportiva con il Termoli che riassapora il gusto della vittoria e si prepara la sfida in casa contro la Iesina Giacomarro ritrova la serenità e si gode i nuovi acquisti già decisivi i giallorossi tornano a sorridere dopo il recupero della quattordicesima giornata grazie alla vittoria per 2-0 contro l'Agnonese i gol uno per tempo portano la firma di Capità Miani e nella ripresa del neoacquisto Palumbo si è presentato davanti ai suoi nuovi tifosi con un gol all'esordio in casa molto soddisfatto a fine gara mister Giacomarro la vittoria è venuta con delle trame di gioco importanti che abbiamo fatto qualche giocata che proviamo durante la settimana avevamo due attaccanti che per la prima volta giocarono insieme la difesa tranne Bocio che è il nuovo poi 6-7 undicesimi erano quelli che già hanno lavorato con me e oggi hanno avuto quella tranquillità quella serenità che magari ci è mancata in settimana per le varie dicerie che si dicono in giro per le varie contestazioni però penso che oggi hanno dimostrato che la squadra se gioca a calcio può cercare di battere tutti mister bene gli innesti ma la squadra adesso va bene così e tutto quello che voleva no no ancora no dobbiamo vedere un attimo col presidente in settimana ci riuniamo anche col direttore per vedere un po' il cammino che dobbiamo fare per adesso siamo siamo in pochi abbiamo 16-17 giocatori perciò dobbiamo arrivare magari a 20-22 per cercare di lottare con le altre per giocarci qualche cosa nei posti dove si sta bene cioè in alta classifica domenica arriva la Iesina qui in casa da voi partita che non dovete assolutamente sbagliare ma giochiamo con una buona squadra e abbiamo fatto due partite domenica e mercoledì oggi la stanchezza si è vista c'è parecchia stanchezza perciò anche domani fanno riposo perché ho visto la squadra molto stanca senza gamba perciò è giusto così poi sai benissimo quando subentri cambi modulo di gioco e soprattutto cambi gli uomini in mezzo al campo è tutto un rebus ha bisogno di tempo ha bisogno di qualità ha bisogno di di grande personalità per cercare di fare cambiate di vertici ora tutti concentrati per l'impegno ravvicinato di domenica in casa contro la Iesina e si lavora anche in casa Isernia in vista della partita di domenica ma soprattutto sul mercato il DS Dino Petrangelo dopo aver risolto i contratti con Rima e Cagliazza ultimi giocatori della vecchia guardia sembrerebbe essere alla ricerca di calciatori che dovrebbero garantire quella qualità che finora è mancata ci sarà un innesto per reparto sistemata la difesa con carta il centrocampo con Cardazzi per l'attacco spunta il nome di Bianchini che potrebbe far coppia con l'unico senior ancora inorganico ovvero Riccardi l'Agnonese ripiomba in una sconfitta dopo due buone prestazioni i ragazzi di Urbano devono lavorare molto se vogliono evitare l'incubo retrocessione il servizio non ottimale per i giocatori che in questo periodo dell'anno dovrebbero fare la differenza queste le parole di mister Urbano a fine gara la squadra ha fatto la partita che doveva fare ha fatto quello che poteva fare soprattutto abbiamo dei giocatori che non sono in condizione ottimale su un campo come questo si risalta molto di più a differenza del campo nostro che è più piccolo terreno sintetico i famiano i muranti che sono giocatori che hanno delle qualità però non hanno la condizione fisica mister una partita forse è persa sulle fasce davvero impressionante la qualità espressa sia da Vittieriti che da Di Mercurio forse è lì che vi è mancato qualcosa ma no noi abbiamo fatto i primi mezz'ora abbiamo giocato in un modo poi dopo proprio perché abbiamo visto e sapevamo che loro avevano spinta sugli esterni con questi due ragazzi ci siamo messi a difendere anche noi i bassi a 5 e abbiamo limitato molto bene credo le folate di questi due ragazzi che sono molto bravi ripeto sono due under ma se uno non guarda la lista non riesce a capire se sono under o se sono grandi perché sono bravi tutto sommato io avevo altri due ragazzi ma risca anche egli che deve crescere di condizione erogli un pochettino è voluto meno ma ci sta perché è un ragazzo di 95 e ci sta che questi ragazzi possono alternare delle ottime prestazioni a delle prestazioni meno buone domenica si riparte l'obiettivo è cercare di uscire dalla zona calda della classifica guarda allora onestamente noi dobbiamo cominciare a dire quello che è la realtà noi per uscire fuori dai play out dobbiamo fare un grosso miracolo perché basta guardare la classifica dobbiamo quantomeno potenziare ancora l'organico perché secondo me siamo pochi io non ho cambi sulla panchina dobbiamo essere consapevoli che veramente ci vuole una grossa impresa per uscire fuori dai play out però speriamo di questo non sono convinto di poter raggiungere la salvezza anche attraverso i play out eventualmente domenica partita difficile fuori casa contro il Matelica formazione in grande spolvero nelle ultime giornate ma diventa obbligatorio raccogliere punti salvezza saranno due gli anticipi di eccellenza e quelli di promozione la gioventù dauna sarà impegnata con la Virtus Pozzilli mentre il sesto campano con la Life in promozione la capolista Treppini affronterà il Real Termoli mentre l'ACL Campobasso giocherà con il Rocca sicura il servizio eccellenza e promozione pronti a ripartire dopo il turno di recupero infrasettimanale in cui sono state disputate alcune gare rinviate in precedenza a causa maltempo due gli impegni nel massimo campionato regionale con le inseguitrici del Campobasso impegnate a battagliare tra loro per la seconda posizione la gioventù calciodauna sarà impegnata con il Pozzilli in una gara che non dovrebbe rivelare sorprese visto le due posizioni diverse che le squadre occupano in classifica il divario tecnico evidente tra le due formazioni l'altro anticipo di giornata vede l'ottimo sesto campano impegnato contro il fanalino di coda a Life anche qui come nella partita precedente non dovrebbero esserci grandi sorprese perché il sesto in casa è squadra temibile e finora ha una classifica di tutto rispetto dal massimo campionato regionale passiamo alla promozione dove saranno sempre due gli anticipi in cui spicca l'impegno della capolista Treppini Sporting Matese contro il Real Termoli 11 punti di distacco tra le due formazioni con il Treppini sempre più protagonista assoluto del campionato il Real Termoli dal canto suo è una buona squadra anche se ultimamente non sta di certo esprimendo un gran calcio l'altro anticipo di giornata è tra due squadre di mezza e bassa classifica ovvero tra Lacli Campobasso e Rocca Sicura due squadre in cerca di punti sicuri per giungere il prima possibile alla salvezza sono due squadre che vengono da due pareggi strappati con i denti rispettivamente con il Riccia e il Casal Nuovo Montero Taro si prevede quindi una partita avvincente e con questo è tutto grazie per averci seguito vi lascio ora le previsioni del tempo per la giornata di domani arrivederci il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso previsioni del tempo per sabato 14 dicembre sul Molise la pressione aumenta ulteriormente garantendo condizioni di bel tempo prevalente eccezione fatta per qualche foschia o nebbia durante la notte venti deboli localmente moderati con mari poco mossi temperature per lo più stazionare vediamole nel dettaglio Campobasso minima 2 massima 9 gradi Isernia minima 2 massima 12 gradi Termoli minima 8 massima 13 gradi il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso Grazie a tutti a presto M M Grazie a tutti.